Ciao a tutti appassionati dei miei manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in unico tag per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò fare la recensione di due manga diversi. Uno è Breath, 12,90€ della Ikari, altro ne parliamo dopo. È un manga disegnato da uno dello studio Ghibli, da un animatore dei film dello studio Ghibli. Uno stile disegno molto particolare, in effetti. Faccio vedere. Stile disegno. È un manga fantascientifico, ma più che fantascientifico, sia fantasy che fantascientifico, per meglio dire. Alcune cose posso ricordare un po' i film dello studio Ghibli, in effetti. Siamo su un pianeta, pianeta Aqualoid, dove la popolazione Guerrizzats è stata quasi totalmente esterminata da degli inorganici. Cioè, vengono chiamati inorganici, non si sa bene cosa siano. Gli unici due sopravvissuti sono Nam e Rasa, che per appunto vogliono liberare il loro pianeta. E l'unico modo da farlo è questa leggendaria spada dei Shed, spada Shed, che è la spada Sacra, che però è proprio nel territorio degli inorganici. Quindi, Devo sconfiggere, riuscirà a prendere questa spada per esterminare e liberare il loro pianeta. Il manga sostanzialmente è questo, un manga volume unico. Niente di che, niente di più. Ha un studio, ripeto, particolare. Io l'ho preso proprio per conoscenza di questo mangaka, ma più che altro uno dei disegnatori dello studio Ghibli. Quindi ero curioso di vedere qualcosa. Io amando lo studio Ghibli, quindi ero curioso. Ecco, è un manga per chi ama davvero lo studio Ghibli, secondo me. Perché non è un manga che ti resterà nella mente o nei ricordi. Magari se ti piace il fantasy, ti piacerà di più. Perché ricorda comunque una possibile storia fantasy. Però ecco, carino ma niente di che gli do sei. Sei in mezzo massimo, non di più. È giusto, ma l'ho preso solo per conoscenza, per conoscere questo autore, il tratto che ha. Perché è un tratto molto molto particolare, devo dire, devo dire. Guardate, è un tratto strano, cioè a che non si è abituato. È più un tratto di stile fumetto americano. Più che un tratto classico dei manga. Protagonisti comunque sì, sono caratterizzati bene. Scontri avvincenti, ma neanche troppo. È giusto solo per conoscenza, secondo me. Poi sì, è carino, non è brutto. Però non è niente di che pensavo meglio. L'altro manga a volume unico, anche questo, della Ikari. Denji Man, 12,90€. È un manga del 98 basato sul, non l'anime, sulla live action di Denji Man. Che è un gruppo di super sentai, conosciuto di più in Italia come Power Ranger. Infatti, vedete. Vedete anche i colori. C'è un pianeta, il pianeta Denji, che è quasi stato, anzi, è stato completamente distrutto dal clan Vader. Non so perché mi ricordo Vader. Guerre stellari, poi. E alcuni sopravvissuti in particolare, un modon, un superstite, riesce ad andare sulla Terra e cercare di avvisare i terrestri di questo pericolo che viene minacciato da questo gruppo terroristico spaziale clan Vader. Che odia la bellezza e non accetta che ci sia un pianeta così bello nell'universo e vuole depauperarlo, distruggerlo completamente fuori. E uno dei superstiti incontra i Pei Akagi, gli conferisce, gli dà una tuta, una tuta rossa, che, come da sempre, chi è la tuta rossa è il capo dei Power Ranger. E questa tuta che decuplica la propria forza e dice, troveremo altri compagni, blu, giallo, rosso e verde, rosa e verde, scusate, che insieme combatterete per la difesa del pianeta Terra. Ma è una serie tv degli anni 80, per l'appunto, quindi è un manga diverso, cioè un manga tratto da quella serie tv. Il tratto di disegno non so perché mi ricorda un po' Mazinga Z di Gonagai, come tratto stile di disegno, ecco. Ricordo che i Super Sentai sono stati ideati da Shoto e Shinomori, che è il maestro di Gonagai. Tutto un cerchio che torna. Niente, carino la particolità, come nei Power Ranger, che quando viene colpito un nemico e lo sconfiggi, questo esplode. Quasi, anche per un calcio o un pugno, questo esplode quando viene sconfitto. Però qua a difesa di Power Ranger non ci sono robottoni giganti, Zord, chiamateli come volete, semplicemente colpi normali, cioè, denji kick col calcio, denji punch, il pugno. Cioè, quindi non è che hanno chissà quale fantasia. E' giusto per, visto che Super Sentai, l'opera originale, non è inedita in Italia, e quindi, l'ho preso proprio per quello, perché essendo inedita in Italia in Super Sentai, di Shoto e Shinomori invece lo vorrei che fosse edito in Italia, lo vorrei davvero, perché anche quello è unico manga che ha fatto la storia. Beh, se ci sono in Power Ranger e han creato poi tutto il filone che è venuto dopo, è grazie a Super Sentai. Però ecco, gli do 6 come voto, ecco, una storia normale della difesa del pianeta Terra. Scontri abbastanza opachi, ecco. Non ci sono quegli scontri megagalattici con effetti pirotecnici, a parte quando esplode, quando viene sconfitto, ma alla fine sono un pugno, un calcio, un colpo di pistola, una spada. Una spada laser, punto. Stop. Quindi non è che ci sono armi di distruzione di massa o chissà cosa. Quindi è abbastanza semplice gli scontri, tranne forse quello finale con uno dei generali, che è un po' più combattuto, un po' più di difficoltà, però ecco, comunque scontri e colpi abbastanza normali. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo al prossimo video.